Ciao belli, ciao belle, hola sichi, hola sichi Dunque Visto che ero truccata ho detto Colghiamo col cafe L'occasione per registrare La luce ci ho messo quella lì Del cinesino, del cinese Devo comprare anche la seconda Perché con una soltanto non Non ghiaccio E quindi niente Va buo Video che mi era stato richiesto Un po' di tempo fa E E quindi adesso lo giro Di tutti i miei rossetti MAC Visto che quello che feci all'inizio del canale C'era tutti quelli finti Che io non Neanche sapevo erano finti E quindi niente Aline è andata a comprare le sigarette Quindi sfrutto Il momento Che cavolo c'ho nel naso Che sono sola Oggi ho lavato un po' di pennelloschi Cominciamo Allora Vi faccio vedere questi Che sono quelli che ho Vedete Quelli che dovrebbero essere Viva Glam Allora io ho MAC London Life Angel MAC Viva Glam Viva Glam Viva Glam Viva Glam Viva Glam E' uno che compro io Esatto Questo Ed è appunto Il Viva Glam Glam I colori Per esempio È un rosa Un po' più scuro Rispetto a quello che Ecco forse così Poi uno me lo regalò Lavinia A cui mando Un grande bacio Anzi Ha cominciato a fare video Io amo Lavi Quindi vi lascio Il link nel canale Di Lavinia Nell'info box Però non ho rimembranza Era un rosa Questo è Angel MAC Lo 06 Ed è questo colore Un po' più chiaro Come sapete Io adoro i matt Non i saten Però Lei non lo usava E quindi Questo invece è Il MAC London Life A09 Ecco forse è questo Quello che mi ha regalato lei Che A differenza di quell'altro Di questo È un colore Più Aspettate Ve lo metto Di qua Altrimenti Non lo vedete London Life Dovrebbe essere Questo L'ultimo Ve lo metto Qui Ecco vedete Leggermente Leggermente Un po' più chiaro Poi L'ultimo Di questi Angel È il MAC Angel Gel 011 Che è appunto Questo colore Qui Che è una specie Di aranciato Questi sono Appunto Questi Che ho Va bene I minangio Quelli lì E invece Questo È il Kelly Yum Yum Sempre Delle collezioni Eccetera Eccetera Che comprai Mi lo regalai Per Natale Dell'anno Scorso Che è un Innanzitutto Cambia proprio Il packaging L'ho preso Anche per quello Perché era L'unico MAC Ce n'è diversi Che vorrei prendere Ma veramente C'è Non vi dico Questo è un Fucsia Più Fucsia Di tutti Questo è il Saten Kelly Yum Yum Per essere Un Saten È Molto Molto Più Corposo E scrivente Io non so Cosa vedrete Eccoli qua Rispetto agli altri Ho lasciato pure La scatolina Perché mi andava Dunque Vi mostro Quelli che ho Senza A geggina Che ho comprato Un sacco di tempo fa E poi tutti gli altri Questo è un Iconic Pro Non ci vendono niente Allora Io qui ho Il Party Parrot Che l'ho comprato Su ebay Un sacco di tempo fa Non è falso È vero Ma è meraviglioso E so che non c'è neanche più Comunque si sente Io ho anche quelli finti E vi posso garantire Che si sente proprio Nella stesura Quando un rossetto Mac è vero o no Dall'odore Dalla stesura Da un sacco di cose Allora Il colore è questo Uno dei video Che vi ho messo Dove appunto Vi ho detto Che ho una fialetta Che somiglia Al Party Parrot E qui È veramente identica Ve lo metto Qua Allora Il Party Parrot È un matte Ed è bellissimo Naturalmente Ecco Forse così Vi rende un po' di più È un rosso Fragola Ma sulle labbra È fantastico E poi abbiamo Il Saint Germain Che è un Amplified Purtroppo ne ho Se non mi sbaglio Un altro Che io non uso Questo non ricordo Chi me l'ha regalato Ed è un Per esempio Questi Amplified Nonostante appunto Siano è Vedete Diciamo che è molto Simile a questo Molto simile Forse questo È un po' più freddo Non rende Dalla camera Perché sembra Più Ecco Forse un po' più Così No ma Qui vi rimane Più sul viola Mentre più Sul rosato Adesso Veniamo A quelli chiusi Dunque Questo Ah no Questo è il Prolonger Non c'entra una mazza Questo qui Allora Madonna Quanti ce n'è Così Veniamo Al primissimo Che mi è stato regalato Da Brenda Poco prima Poco dopo Ho aperto il canale Che è uno Secondo me Dei più bei Rossetti Mac Che c'è Anche se adesso Ne hanno fatti Altri E giuro che Appena ho due soldi Sono miei Ed è Cyber Come lo conoscete tutti Io non sto a menarvela Più di tanto Perché tanto Tutte conoscete Tutti È solo per farveli vedere E dirvi un po' Che è un saten Però È favoloso Sono appunto Questi saten Che hanno questa Hanno una resa Spettacolare Secondo me Sono Legge Non tanto Non rende il colore Porca mignotta Eh non vi rende Via Dovrebbe essere Un viola Scuro Nonostante appunto Siano dei saten Una volta che Avete messo Una leggera Passata di cipria Sulle labbra Diventano matte Poi Abbiamo Rebel Rebel Questo film È stato regalato Da Stella A cui mando Un grandissimo bacio E anche a Brenda Mando un grande bacio Che tanto non sento Che spero stia bene Questo Diva No scusate Rebel Come vedete Ha il packaging Diverso Dagli altri Vedete Questo ha i glitterini Mentre quelli no Questo penso sia Un'edizione limitata Allora Rebel È un colore Molto particolare Ed è appunto Anche questo Un saten Allora Questo è il colore Del rossetto E questo È il colore Del Insomma Della stesura Sono dei colori Che tendo A vedermi Soltanto In alcuni periodi Dell'anno Ma quando me li vedo Me li vedo bene E le indosserei All'infinito Poi abbiamo Diva Diva È un colore Invece È un Matte Diva È un rosso Molto più scuro E Vi faccio vedere C'è da farmi anche i peli Questo è Diva Che è appunto Questo rosso Sangue Un po' più intenso Ma Molto bello Poi Vi volevo Far vedere Quelli che avevo Un po' più scuri Allora Poi abbiamo Il plismi No Quello è rosa Pink No Voi che li amiamo Ok Adesso vengono i rosa Perché come sapete Ho avuto il periodo Delle fisse del rosa Qui abbiamo il plismi Allora Il plismi Mi era regalato La ricciardina A cui mando Un grande bacio Anche questo È un matte Ed è molto bello Perché è un classico Rosa Da tutti i giorni È un bellissimo Rosa Intenso Non di quelli Brutti Che Come vi posso Spirare Insomma È un bel rosa Bello Mi piace molto Poi abbiamo Il Pink Novo Pink Novo È un Satin Ed è Questo rosa Qua Anche questo È un rosa Sempre Più Leggero Come vedete Rispetto a questo È molto più acceso E mi era presa Presa La fissa De rosa Quando appunto Avevo preso I rossetti MAC Poi c'è Il Pretty Please Che è un Lustre Questo purtroppo È un rossetto Che ho comprato Da Ebay Io non lo uso Assolutamente Perché è Totalmente Trasparente L'ho messo Mai L'ho soltanto Swatchato Anzi Sto cercando Di regalarlo Ve lo faccio Vedere qua È totalmente Inesistente Quindi ora Cercherò di regalarlo A qualche Mia amica Perché Era il periodo Lo comprai Quando non sapevo Aggeggiare Con E non conoscevo Appunto I rossetti E quindi Vabbò Poi c'è Il Fusion Pink Che anche questo È un saten Ed è un rosa Intenso Diciamo Rispetto a questi Molto più Come questi qua Ve lo metto qui Non amo i saten Perché Allora A parte che Ho dei colori Veramente molto simili Però vabbè Non amo i saten Perché hanno Questa Parvenza Già Gli altri Sono lucidi Poi abbiamo Heroin Che naturalmente È un matt Ho fatto Veramente fatica A prenderlo Allora Non vi rende Assolutamente Perché lì Nella camera Vi viene violissimo Invece è un viola Non vi rende Non vi rende Assolutamente E non so Dove swatcharvelo È un colore Bello Molto Molto Bello Sarebbe ancora Ancora più bello Se fosse veramente Viola Come vi rende Nella telecamera Ma non è così E poi abbiamo Il Candy Am Am Chiaramente Che tutti E tutti Conosciamo Che è un Matt Che è questo Che cazzo Che è questo rosa Fluorescentissimo Però È ancora più Fosforescente Di quello che vedete In camera E l'ultimo Rossetto Rossetto Che ho È il Pink Blade Che è un Matt Anche questo Che non mi ricordo Se è questo O l'altro Che mi ha regalato La Ricciardina Ma penso l'altro Allora Il Pink Blade È molto simile A questo Che ora io Metterei Dove lo potete vedere Ma non saprei Veramente Dove metterlo Forse qui Hanno due tonalità Di rosa Veramente Allora Aspettate Vediamo Ve lo metto qui Ve lo metto qui Guardate Questo È Il Pink Blade E questo È il Please Me Che comunque È il Pink Blade Quello che mi ha regalato La Ricciardina Il Please Me È questo Come vedete Sono due tonalità Di rosa Molto simili Però anche Molto diverse Sono i rossetti Che io prediligo Specialmente La mattina Quando vado al lavoro Perché sono Dei rosa Leggeri E mi piacciono Veramente tanto Sono Scusate E lo ditti Mi piacciono molto Spero di non averne Dimenticato qualcuno In giro Per i neandri Della stanza E niente Bambolotte Era un Un video Per stare un po' In compagnia Comunque si vede Che ho cominciato Li ho comprati Preferibilmente Nel momento In cui mi piaceva Il rosa Vi farei Gli swatch Sulle labbra Però Ci vuole un po' Parecchio Boh Casomai Fatemi sapere Se vi può piacere Un video Con gli swatch Magari sulle labbra Fatemi sapere Se Party Parrot E' favoloso Comunque Spero Ribadisco Di avervi tenuto Un po' Di compagnia E Sapete Che siete Il mio più grande sostegno Io vi lovo Fate le brave Spippeggiate poco Ciao Merine belle Valeu